salve ragazzi sono castoro e io sono progione ben ritornati su residenti col 7 abbiamo appena trovato la mappa e prova a riprendere tutte le armi la roba pensavo che morivamo lì e ci siamo morti ma vabbè ha provo a fare il coso la pro l'altro l'antidoto vedi se lo puoi fare l'ultimo episodio siamo andati alla festa e abbiamo dovuto risolvere l'enigma che avevamo già visto nella videocassetta però stavolta senza morire e mo si è incazzato un hero giustamente perché non siamo morti perché non siamo morti l'altro abbiamo visto che mia e zoe stanno bene sono incatenate ma magari potevano anche morire perché cazzo siamo qua e non lo so un'altra area proprio adesso ottimo ci voleva un po di nuovo altro le armi lei prese si ok 15 colpi wow una donna intanto se ho preso insieme con le pistole si appena arriviamo alla roulotte compriamo la manovella c'è la higend nella casa che non l'ho buttata dare te dare me dare me dare me tu manovella ecco qua non può sparare perfetto credo che il filo è di ferro tipo cosa stavolta ce l'ha rimasta la manovella però no no sembra di sì arrivo via e si parla da solo poi si dice chi va con un zoppo e bella zottigare in questo caso chi va col pazzo e impara a impazzire ma ciò chi ciò chi non so se c'è qualcosa ma strada dritto qua esce un mega coccodrillo qui è chiuso giusto mi sembra mi sa di sì apri a da di là si apre e lei c'è una casetta la casetta in canada questa è la casa del prosciore la sua futura casa ragazzi che vedete quanto è contento colpi qui c'è il boss si va bene lo sappiamo che c'è il posto che allora cosa faccio con questa altra cura vai fanno sempre bene ma le cure senza colpi non servono niente ora i colpi stiamo bene stai bene con i colpi credo io sparare te c'è 45 munizioni per la pistola ehi la madonna 60 devi mettere la mamuella meno male che non l'ho posata perfetto no qui esce sicuro qualche bestiaccia vedi? oh e te lo sei chiamato e vaffanculo dall'acqua esci tornuto so che mi esce un altro sto cagando sotto sta canzone la odio oh merda mostri io me ne vado non mi cago proprio ora esce un altro avanti e mi incastra la marda sicuro ecco ti vaffanculo non sei morto adesso si questo è più grosso questo è brutto oh mostro andate vaffanculo si sono squagliate proprio si e questo mi sa che esco dentro io guardo un po' si secondo me esco nella casa adesso si però qua non possono venire tu c'è il fucile? ho rischiarmiato colpi o meno uno sparo altro trasladaggio psicostimolanti erba mattina madonna quanti rifornimenti madonna 10 colpi ma no vabbè qua c'è tipo l'ultra boss si boss finale tipo li salviamo no non l'avevamo nemmeno salvato perchè non c'è il salvataggio nì mi sembra di si no vabbè ma abbiamo salvato salva 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 cosa la manovella che non ti serve più allora possiamo la manovella possiamo prenditi pure il lanciatronazzo cosa la chiave del serpente possiamo questo possiamo questo questo si mettiamo qua si mettiamo qua possiamo anche questa questa richiesta questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua lo mettiamo qua e lo metto a posto della pistola ecco qua proprio di cattiveria assoluta questi li usiamo subito vedo male che non li ho uccisi a qui cosa perché alla fine non ti droppano niente quindi non conviene proprio uccidere se te li trovi proprio davanti vedoci altrimenti di mister everywhere noi stiamo trovando eccole qua più che entri succede casino mi sembra di uscire entrambe musichetta del cazzo cosa musichetta triste ok shhh perchè la liberi questa non ti mangia liberi anche l'altra ti trovo non ho provato ah non so che è meglio di quella ah no ti riprendono che città che città cattivo tattar 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 come ha senso il tuo ragionamento seguici no perchè ce l'avevi di stradella eh appunto no non so sbrigati e dammi gli ingredienti del cielo no ci manda qualcosa mi sa no ma l'ho ucciso eh non l'hai ucciso abbastanza cazzo è un frullatore che cazzo mi è so che cazzo mi è so che ho ottenuto il siero cosa si fa? qui fuori c'è una barca andremo alla palude sulla torre a porta giro senza il siero saremo spacciati ci sto comodamente prendi il tiro pillala rossa è mia cosa? che cazzo che cazzo no questo è papà si si eh merda la bruttezza è la stessa amico mio mi devo andare a far culo mi ha ucciso la madonna cosa? se magari non cadi sembri un tiradischi rotto non sfottere papà per piacere possibile 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 la lentezza del ricaricare eh si dai vieni qua mi ti squarto oh merda oh merda oh merda fail sai se gli fa qualcosa perchè non deve colpire negli occhi qui vaffanculo fara fare eeeh la merda gli hai schiacciato un brufolo ma è un attacco credo Ah, sto piangendo perché gli ha ucciso la moglie. Vaffa, culo. Usa le commissioni del fucile. Sfide la differenza. Eh, sì. Vieni più vicino. Se magari lo colpisci. Mostro, mostro! Ora sì! Vai! No! Ehi, non servi! La cazza, non è facile. È lentissimo mirare. Sei capace, cazzo. L'altra volta è la stessa frase, ok. Sai che c'è tre frasi, tipo. E le ripete. Niente. Aiuto. Oh, attento. Oh, merda. Eh, eh. No, no, mostro. Perché sei andato sopra, mostro? Riscendi sotto. Non sa stiacciarmi. No! Che incapace. Che cazzo fa il strass. Ciao, l'ho già qui. Vaffa, culo. Che c'è da uscire? Io me ne vado sopra. Sì, quando ricarico però. Ehm. Un minuto mostro. Che cos'è? Su schifo assoluto. Ragazzi, voglio gli applausi. Se vinco, se lo uccido alla prima... Alla prima volta. Che schifo. Dai! Vieni! Oh! No! Mostro! Ah, vabbè, ma... Sei lento, sfatto proprio. Ehi, la madonna. È scoppiato. Come cazzo ha preso fuoco là? Non ne ho idea. C'è qualcuno fuori che ci dà fuoco. Aiuto. Mostro. Non ne vedo. Oh, merda. No, e via. No. Oh, devo scappare. Scappa! C'è un altro di due occhi, mi sembra. Ehm. Fai schifo al cesso. No. C'è quello là grosso che... Eccolo. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Forse un altro. Eccolo. Fuck you, bitch. Ehi. Fuck you. Wow, sniper, castoro. Che cazzo sei tu? Oh, merda. Ehm. Non ne vedo un altro. One shot, one kill. Non provo così come... Spera che 30 colpi... Dov'è? Eccolo, eccolo, l'ho visto. Dov'è? Wow, colpo e... In salto. No. No. Oh, merda. Dov'è? Cosa devo uccidere? No! Scappo, scappo. Usiamo un po' di lanciafiamme? Facciamo danno... Non lo so. Secondo me non conviene. Sì, ma cosa gli devo sparare? La faccia, forse. Eh, non lo so. C'è un altro occhio, probabilmente. Non si vede. Fai schifo? Te ne sei reso conto che fai schifo? Che cazzo? Vaffanculo. E giù. Verda. Cazzo. Ahia. Madonna. No. Mostro. Eccolo! Affanculo. Affanculo. Sei morto? Non credo. Madonna cara. Che sta facendo? Se ne sta andando. Ah, se ne sta scappando. Madonna ragazzi. Oh, che cazzo è? Spara, 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 spara. No! Non con lanciafiamme. Non dire parolacce, siamo su YouTube. Ahia! Cazzo le sta dicendo le parolacce? No, il mostro... Ah. Ma è stronzo. Mi sa che devi sparare con... Sì, sì, ricarico. Sono morto! Sono morto! Sì. La madonna Troia! Mmm. Mi sentava. Mi piace fatto bene. Mh. Minnaggia la madosca. Curati. Ah. Eh, eh. Sei uno schifo! Sembri un tiradischi rotto. Bravo. Vaffanculo. Eh, mi sa che non lo colpisci da qua. Ma lo devi sparare. Vabbè. No. No, lo colpito, però non era abbastanza bene. No. Affanculo. Che incapace. No. Mostro. Affanculo. Io mi ricuro. Non ciò che non conviene. Dai, prendi! Hai lanciavisti, vero? Questo lo uso dopo. Eh, usalo dopo questo. Non mi conviene di più. No. No. Mostro. Mostro. Sto bovitando in faccia. Non si fa. Schifo. Oh, merda. No. Dai. Perfetto. Perché esplode? Oh, merda! Morto? Eh, un altro sulla pancia, no? Aiuto! Ma come ti ho scansato? Non lo so. Vita? Che cazzo vuoi? Uh, c'è il pisello opposto. C'è l'occhio opposto del pisello. Che schifo. Che cazzo è? Oh! Merda. Ecco. L'avevo detto. E' schifo. Che schifo. Che schifo. Mi fai ricaricare? Porca di quella lotta. No. Vai. Perfetto. Ah, vado sopra. Dove si va sopra? Del qua. No, si era fermo. Oh, schifo. Eh. Niente. Prendi tutto, prendi tutto. C'erano le cattuccele a te. No. C'erano le cattuccele a te. Tutto. 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 Guarda. Cosa cazzo vuoi fare? Madonna cara. Dai. Cosa cazzo c'è? C'è quello là che è gigante. Come non l'abbiamo visto. Piccadurro. Dove? 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 No. Schifo. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. C'è un altro, mi sa. No, è finito. Non è finito. Ok. Ma ti voglio. E se tipo vado sopra? Mi prende? Non penso. Penso di sì. No, non è finito. C'è un altro occhio? Sì. Non sembra. Sì, mi sa di sì. Non lo vedo. E me lo faccio io. Ma era caduto a terra. E' un altro sotto la pancia. E' buono il secchio di pisci. Che schifo. Non ce n'è più. Ehm... Ehm... Guarda, ce n'è per forza. Se tu devi stare sotto. Devi fare quella cosa. Eh, può darsi. Dai, fai il coglione. No. Che schifo. No. Eh, già sto così. Un po' di paura. Dai. Oh, eccolo. Spara. Per me. Fa un culo, va. Ma sì. Aiuto. Eh, me lo sto andando giù. No, ma mi so che ti prendi per forza. Oh. Ok. Però che vai? Oh, merda. No. Perché sei un infame di merda? Ah, qua è il culo. Perfetto. Morto? Ah, penso di sì. Sì? Ah, un infarto mi sto venendo. Ora, le ho viste proprio tutte. Eh. Ah, no. No, dai. Mi veniva così. Oh. Che cazzo vuoi tu? Oh, ma che cazzo. Ah, è saltato. Senza manco pensarci, proprio. Bellezza. Eh. Che schifo. Ah, è passito pure lui. È passito pure lui come mamma. Poi si sgretola. Voglio la roba che sta qua a terra. Cosa? Ah. Dai, va. Guarda la roba. Ecco. C'era un'altra roba in giro. Eh, si è distrutto tutto. Dovevo prenderlo prima. Eh sì. Da, vedi. Eh, non ci puoi andare. Nooo. Ah, che ingappo. Fa. Dovevo prendere la roba che sta qua. No. Vabbè, andiamo. Armino. Che cazzo è stato? Che cazzo. Ok, le porte che si chiudono. No, ma. Questa cosa non ho mai capito. Eh, cacca. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Mia, vaffanculo. Mi scopo all'altro. Ne è rimasto solo uno, davvero. E ora che ci inventiamo. Ma non è detto lei? Metà c'è a scuola. Devo scegliere. Scegci. Io dico mia. Ma questo è più scopabile, ma. Vabbè, pretto. Se è venuto qua per lei, ci manca solo che. Ah, dai, dai. Seguiamo la strada del boss samaritano. Però lei c'ha più tette. Io mi corro, io me ne vado. E non ti serve la cura. Questo è l'ultimo boss. Vedete? Ah. Qualcuno che ti aiuterà. Ecco il mio. Non posso cambiare. Non posso cambiare il destino. Ok, già va a fanculo. Non partire il motore. Ti salverò. Stai tranquillo. Non rimarrà nessuno da salvare. Addio. Ui, la spocatezza. Vabbè, è fatto apposta questo. Primo piano, ti immagino, ma si trasforma e ccci. Ti mangiare questo. Ragazzi, penso che il gioco sia finito. Ma noi l'abbiamo ucciso, dove il figlio? Giusto. Che cazzo si è fatto? E forse si è salvaviva altra. O magari non è finito ancora. Che cazzo che so. Magari moti ferma, moti fiega appresso. Però perché lascia il giocattolo, non l'abbiamo usato. Quindi forse... Il c? Ssshh. Gli altri avrei potuto scegliere. Sshh. 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 Devo sapere la verità. E... Te lo giuro, io non mi ricordo. Tu prova. Eh no, non si scappa. Che cazzo è? Una nave? È la nave. Ah, la nave dove stava è lei. Ah. Mi direi che hanno corrotto tutta la nave. Eh. Che cazzo è? No. Sì. Non si finta il pezzo del po'. Oh merda. Ci risiamo. Mi direi che finisce che muoio con tutte e due e... Mi taglio le palle. Ma tu non ce l'hai le palle. Faccio vedere io. Oh merda. Ah, pure la bambina. Oh, la bambina. La vecchia. La vecchia. Adesso siamo a zero. Eh, cioè, se la bambina. Non lo so. Sì. Cazzo succede? Bene ragazzi, direi di fermarci qui. Per oggi è tutto. Per oggi è tutto.